E' stata firmata questa mattina tra Comune di Napoli e Corte d'Appello la Convenzione per la Notifica degli Atti Tributari Locali, un accordo che consentirà all'area entrate del Comune di avvalersi in maniera continuativa degli ufficiali giudiziari dell'UNEP per migliorare e velocizzare il processo di riscossione dei tributi, ottenendo in tempi brevi la certezza della notifica. Dall'accertamento IMU alla Tari, dall'imposta di soggiorno agli avvisi per il canone di occupazione di suolo pubblico, la Convenzione ha ad oggetto tutti i tributi comunali e sarà valida in via sperimentale fino alla fine del 2020. Abbiamo a disposizione una struttura informatica che funziona molto bene, molto efficiente, che pur assorbendo poche risorse riesce a ottenere grossi risultati. Quindi ci è sembrato giusto metterla a disposizione della collettività. Era un esperimento che non è stato mai fatto per la verità. Siccome si tratta di fare notifiche, e le notifiche normalmente le fanno gli ufficiali giudiziari, ci è sembrato giusto sperimentare questa cosa, anche con l'appoggio del Ministero che ci ha dato carta bianca su questo. Con cadenza mensile il Comune di Napoli invierà all'UNEP gli atti da notificare ai contribuenti in via telematica, ricevendo nello stesso modo, entro 60 giorni dalla consegna, la rendicontazione degli esiti di notifica. Per migliorare ulteriormente la capacità di riscossione del Comune di Napoli, che già è cresciuta parecchio, abbiamo stipulato questo accordo senza precedenti, importante, con l'UNEP della Corte d'Appello di Napoli, l'ufficio notifiche degli atti giudiziari, perché sia il Comune di Napoli che l'UNEP hanno fatto dei passi in avanti straordinari sul piano tecnologico e dell'innovazione e dell'informatizzazione, mettendo insieme Comune e UNEP, noi andremo ad accelerare la riscossione degli atti tributari, ci sarà più rapidità, più efficacia, più trasparenza e quindi più legalità, perché avremo più riscossione e una maggiore efficacia nel contrasto all'evasione. Quindi siamo certi che questo accordo, ripeto, senza precedenti, c'è solo Roma che come noi sta andando in questa direzione, porterà i suoi frutti perché più tributi incassati, più servizi della città.